Si chiama Lilian Costantin, ha 18 anni d'età, è una studentessa del Kent in Inghilterra e ha dimostrato grande tenacia e una forza veramente infinita perché poche coetanee magari avranno avuto la stessa situazione di cui lei purtroppo è stata vittima infatti ha filmato di nascosto con il suo cellulare il laguzzino che tentava una violenza sessuale un video brutale in cui si vede quest'uomo che cerca di abbigliarsi al suo corpo con tanta tenacia un video breve che dura poco meno di un minuto circa mostra la ragazza che viene strattonata, viene aggredita dal suo rientro a casa da uno sconosciuto e per l'appunto però riesce a riprendere l'intera vicenda in questione riesce però la ragazza a salvarsi grazie anche all'ausilio di qualcuno che era lì nei paracci e riesce per l'appunto a scampare da una tentata violenza sessuale che di lì a poco probabilmente, molto probabilmente, si sarebbe consumata sotto gli occhi di tutti ma soprattutto sotto l'occhio e sotto per l'appunto la minaccia di un coltello che l'uomo, o meglio il personaggio, lo scofiguro, avrebbe tirato fuori vi ringrazio per l'ascolto, la ragazza avrebbe raccontato che appunto avrebbe cercato quest'uomo di andare oltre, avrebbe cominciato a toccarla un po' ovunque lei però l'avrebbe minacciato di chiamare la polizia e le urla hanno per così dire attirato l'attenzione di una persona che era lì intorno che appartiene avvicinato, è scelta dalla porta di casa ed è riuscito costui a far fuggire il bastardo, l'orco, il mostro vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua ovviamente è riuscita la ragazza a denunciare il fatto e è riuscita insomma a sventare questa probabile violenza sessuale che in via popoli si sarebbe consumata saluti ragazzi